Quindi, parlando del cervello del comico, della comicità, il tuo pezzo, il tuo monologo verte su... La depressione. Un divertimento con la depressione. Allora, buonasera, pippe di Perfetti. Come state? Io... siamo un po' tutti depressi. Un po'. Chi ha detto no? Vabbè, no, non siamo tutti depressi. Però c'è un momento nella vita in cui tutti noi ci siamo sentiti l'ultimo della Terra, ci siamo sentiti male, tristi, sfigati, l'ultima persona che... C'è uno schifo. Tutti abbiamo avuto questo periodo qua. E io vi dico che c'è un modo e un consiglio che vi do per uscire da questo momento triste nel momento in cui vi sentite proprio l'ultima lunità sulla Terra. Per sentirvi meglio c'è un modo, che è quello di accendere il televisore e andare sul canale 31 della televisione e lì c'è Realtime TV. Allora, su Realtime TV... perché Realtime? Perché se Realtime TV è un canale dove la gente va per o auto-umigliarsi o umiliare i propri amici e parenti a loro insaputa. Se tu sei triste e depresso e stai tre minuti su Realtime, già stai meglio. Se stai tre ore su Realtime ti senti un figo. Se stai tre giorni di fila su Realtime, il tuo ego si gonfia talmente tanto che vai in giro e dopo aver detto che lasci la politica fondi un partito che si chiama Italia Viva. Però ti si gonfia proprio. Io mi sono chiesto, visto che il cervello... Che cosa scatta nella testa delle persone che vanno a Realtime? Cioè, insomma, malattie imbarazzanti. Allora, io mi sono chiesto, se io soffrissi di, non so, soriasi genitale, fiatella canina, flautulenza cronica, beh, la prima cosa che vorrei fare è andare a dirlo in televisione, no? Perché tutti devono sapere questa cosa, di questo masochismo come cortesie per gli ospiti. L'avete mai visto? Questi che si alzano all'alba, uno che rassetta tutta casa, tutto sistemato, l'altro va a comprare, compra le cose migliori, cucinano, il tavolo perfetto, il piatto perfetto, la posata deve stare così, il centro tavolo, il regalo per gli ospiti, per chi? Per i tre più grandi cagacazzo che esistono sulla terra. Cioè, arrivano e in casa tua iniziano a insultarti. E vabbè, ma sto davvero, ma sul divano c'avevi i cinghiali. Vabbè, ma dai, però, le tende le hai rubate agli zingari. Cioè, ma chi cazzo sei? Ma vattene! Cioè, una roba pazzesca e tu poi devi anche dare il regalo, grazie che siete venuti a trovarmi. Cioè, di cosa ti scatta nella testa di invitare queste te persone? Ma poi c'è anche la cosa allucinante, perché questi programmi qua, che sono dei reality, poi sono nati tutti, tutti quelli che io mi sono anche studiato, sono nati tutti partendo dal capo stipide dei reality che ha avuto successo e che ha prodotto, che era S.O.S. Tata. Allora, S.O.S. Tata lo conosciamo tutti. Che cos'è S.O.S. Tata? È un programma dove ci sono dei genitori che stanno allevando dei futuri criminali e sono i dati e hanno dei problemi, no? Cioè, non riescono a gestirli. Tutti uguali, l'intervista ai parenti, lei non dorme da tre anni. Ok? Sexy come Anna Mazzamauro, la morta. Lui in tuta dal 96, cioè disperati, arriva la tata, sta con loro una settimana, beh, devi fare così, devi parlargli così, sistema le cose e poi, un momento struggente, la lettera finale, con la musica, no? Dove ci sono gli ultimi consigli, il saluto della tata, arriva dalla terza riga e vedi i bambini che corrono dietro il gatto con il lanciafiamme, cioè che non è servito un cazzo. E tu questi programmi qua, poi hanno preso talmente piede che ce li stiamo trovando dappertutto, cioè un boss in incognito, è andato sulla Rai, no? Qual è quello che ti fa scattare? Che tu pensi? Cos'è il boss in incognito? Sono degli industriali, imprenditori, che si travestono da impiegati, operaie, vanno a lavorare nelle proprie aziende, no? E tu, quindi, quello che ti fa scattare è che pensi che i tuoi impiegati sono dei coglioni, perché scusami, tu sei in un negozio, io sono capo commesso, arriva una con la parrucca di 60 anni, apprendista commessa, ma ci sarà qualcosa che non va? Cioè non ti scatta la roba che forse non è proprio... Peraltro, il boss in incognito l'abbiamo inventato noi, l'hanno inventato a Torino, gli agnelli, tutti gli agnelli hanno fatto, vi giuro, hanno fatto un mese nelle loro aziende in incognito. Questa dinostia, questo coso, si è interrotto quando è arrivato il Leonardo da vici degli... Lapo Elka, cioè perché... Lapo Elka, prima di diventare famoso per i suoi meriti imprenditoriali, cioè farsi trovare vestito da donna mentre se lo inculavano, però che scusami... E qual è stato? Che lui è andato a lavorare alla piaggio per un mese, dopo tre giorni, ha detto Lapo, ma se vieni in Ferrari, se ne accorgono, capisci? Cambia! Cioè non lo capisci? E io mi sono detto, scusate, però io ho fatto questo ragionamento, su... Perché Real Time è la tv dell'amore, perché se tu stai attento, su Real Time puoi far nascere e completare una storia d'amore. Si parte con 90 giorni per innamorarsi, ci arriva, prendono delle signore dal Tajikistan con i baschi e le porta... Ma le avete viste? Come sono? Allevatrici di formaggio... Ma perché 90 giorni? I primi 30 giorni pensano, puzzano il pecorino, quindi hai 90 giorni. Ma metti che la trovano! Metti che trovano uno, abiti da sposa XXXL, cioè adesso trovano una industria siderurgica che gli fa il vestito, ma... e anche lì c'è la cosa, perché arriva il dottor Nazaradan di una vita all'inizio, ma io voglio vivere tutta la vita con il cinismo di questo signore, quando gli arriva uno con quella faccia che gli dice senza io peso 300 kg, secondo lei devo smetterla di mangiare lo strutto fritto con la maionese. E lui, impossibile, è un genio, però tu arrivi, a parte che c'è anche quello di matrimonio a prima lista che ti toglie tutte le rotture di coglioni, uscire a cena, regalo, ma se tanto, tanto le percentuali di successo sono quelle dei matrimoni normali, cioè il percentuale è uguale, andatevi a vedere, però, quando si arriva al matrimonio, chi arriva? Arriva il protagonista assoluto di Real Time, che è la pietra migliare di Real Time Italia, che si chiama, Enzo Miccio, il wedding planner, per chi non conoscesse, Enzo Miccio, è uno che va vestito tutti i giorni, come se stesse andare, per andare a ritirare il premio Nobel, cioè lui ha, scarpe a punta, scarpe, pantaloni col tubino, giacca, gilet, papillon, bombetta, bastone, poi viene da te e ti dice, ma come ti vesti? Ma come cazzo ti vesti tu? Cioè, Enzo Miccio, perché io non lo conosco, è talmente fastidioso, arrogante, che, voi immaginatevi, Alfonso Signorini, posseduto da sgarbi, con le morroidi, questo è il tuo nome, questo è Enzo Miccio, Enzo Miccio, allora, e ci ho goduto troppo, che ho perso Pechino Express, alla finale, perché proprio, ah, doveva morire, però Enzo Miccio, qual è il problema? Perché se è nato il bullismo in Italia, è colpa di Enzo Miccio, perché chi aveva Enzo Miccio in classe, ma come fai a non bullizzare uno così? Cioè, i primi video sono con lui, con lui, con la testa nel cesto, a un certo punto è arrivato il preside, che ha detto, no, scusate, e che proprio non ha resistito, che mi dà fastidio, capito? Proprio il preside è stato, Enzo Miccio è talmente fastidioso, che sarebbe da prendere, da mettere, nella curva del Napoli, con una maglietta, con detto scritto, Maradona è uno stronzo, perché è così, questo è il trattamento, però, non c'è, c'è anche altro, su realtà, c'è anche tutta la parte, chi ha gli animali? Tutti, no? Tutti abbiamo gli animali, c'è tutta una parte di cani e di animali, ad esempio c'è, o io o il cane, queste storie tremende, in cui uno delle due coppie non vuole il cane, e i cani vengono, ma c'è una puntata dove il cane, c'era una che non voleva il cane, e allora abitavano al secondo piano, allora questa qui, gli dava fastidio, che il cane non aveva capito che loro erano al secondo piano, e si fermava sempre al primo, e allora cosa hanno fatto? Lei gli ha preso, ma vera, gli ha preso il collare con le scosse, giuro, per fargli, a scosse leggerne, per far capire che quando si fermava al primo era sbagliato, dopo tre mesi di scosse il cane ha capito che doveva fermarsi al secondo piano, e lei cosa ha fatto? Si è trasferita al terzo! Ha fatto così, ma vi giuro, cioè è una roba tremenda, e poi un'altra cosa, perché non so se qualcuno l'ha visto, ma Tiger King, qualcuno ha visto Tiger King, è una, allora, perché la bellezza della natura, no? Questa è la storia di uno, che si chiama Joe Exotic, che ti racconta di quanto è bello vivere in mezzo alla natura, di allevare bestie feroci, da un enorme parco, pieno di tigri, leoni, e lui dice, ma quanto è bello condividere con questi animali, come si sta bene con questi animali, poi comincia ad intervistare i suoi aiutanti, non ce n'è uno che ha tutti gli arti, vi giuro, ma vi giuro, sto proprio bene, uno gli manca un braccio, uno senza gambe, ma come si sta bene in mezzo alla natura, andatevelo a vedere, perché così, vi giuro, poi lui cos'è, Joe Exotic, come si sta bene nella serenità della natura, è in carcere, 22 anni, per tentato omicidio, giuro, perché, e chi è quella che vive, che abita di fianco, è anche lei sospettata, perché suo marito, un giorno, è scomparso, e lei la da, cioè, forse è sospetto che l'abbia dato da mangiare agli animali, ma vi giuro che è una storia vera, però, il mio programma preferito sugli animali, sugli animali, è il mio gatto indemoniato, perché, ragazzi, questa è storia, di gatti con problemi di impersonalità, la puntata 32, andatevelo a vedere, è la storia del gatto Tosh, un gatto psicotico schizzato, i genitori vengono intervistati, e, purtroppo, noi vorremmo invitare i nostri amici a casa, ma Tosh, squarciano giubulari, a chi non conosce, quindi, cosa succede? Chi arriva a risolvere tutto? Lo, non la data, lo psicologo dei gatti, che dove cazzo si è laureato uno psicologo dei gatti? Arriva lì, c'era un genitore, i genitori, quindi madre, padre, e la bambina, Rebecca, lui arriva, e fa anche finta di capirci, no, comincia a analizzare le cose, poi ho capito, prende la bambina, Rebecca, ho capito, tra te e Tosh, c'è un conflitto, per risolverlo, devi scrivergli una lettera, al gatto, ha fatto scrivere la lettera al gatto, andatevelo a vedere, perché sembra che ve lo sto inventando, è la bambina, caro Tosh, chi, quindi poi, alla fine, con la lettera scritta, lo psicologo, Rebecca, sono andrati nella stanza di Tosh, per leggere gli lettori, non li hanno più visti uscire da quella stanza, quindi, la conclusione è, se siete tristi, depressi, vi sentite una merda, andate sul canale 31, e vi sentirete meglio, perché, domani inizia la nuova stagione di, non sapevo di essere incinta, protagonista, protagonista, Maria Di Nazare, ok, grazie. Pica non c'è più, non ce l'ha fatta, c'è sempre meno pica in giro. No.